Ah, è andato a fuori fuoco, aspetta Vai! Non è contento? Prova! Non gli piaci? E adesso si stanno intercolando tra di loro, guarda Mio fiore, mio fiore Ma sono pacifiche Che carine Quello è meno carino Sì, anche perché potrà rupungere Documentario naturalistico Inonda su Su non so che televisione Ehm... 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 Ehm...